Ciao, sono Paolo di Backpacko e anche oggi un pacco di novità. E bentornati al Barpacko, l'appuntamento settimanale del venerdì mattina dove scopriamo le novità, le offerte e le iniziative di Backpacko. Spero stiate passando delle buone, anzi delle ottime feste e spero ne abbiate approfittato anche per recuperare, se non l'aveste seguito volta per volta, tutto il reportage dello Snake 2022. Lo trovate qui in descrizione, lo trovate sul canale YouTube di Backpacko.it. Un'avventura meravigliosa, paesaggi incredibili, una natura che lascia il segno nel cuore. Vediamo com'è andata. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda. Ora se non l'avete già fatto correte a recuperarlo, il link in descrizione. E cominciamo subito con un nuovo arrivo, Exotac Ripspool. Spesso quando vogliamo vivere avventure un po' più spinte o magari quei true hike, quelle camminate estremamente lunghe in mezzo alla natura, lontani dai centri abitati, beh, dobbiamo essere autosufficienti. Essere autosufficienti per noi e un po' anche per la nostra attrezzatura. Perché, beh, tira di qua, tira di là, i rovi, le scivolate, il fuoco del campo base. Insomma, non è difficile che anche se abbiamo con noi dell'ottima attrezzatura, un ottimo tarp, un ottimo zaino, degli ottimi equipaggiamenti, beh, finiamo per romperli, finiamo per consumarli. Proprio nel bel mezzo di una foresta, nel bel mezzo di una montagna dove non c'è nessuno per chilometri. È chiaro che bene o male uno deve andare avanti. È chiaro che non puoi bloccare l'avventura perché ti si è aperto lo zaino sotto un pochettino. Non puoi chiamare i soccorsi perché ti si è strappato il tarp dopo la tempesta. Quindi cosa fare in questi casi? Beh, bisogna portare con sé un kit, un minimo di kit, qualcosina, per riparare alla buona, per continuare ad utilizzare quel pezzo di equipaggiamento. E poi magari quando siamo a casa con un salto al calzolaio o con un po' più di pazienza finiamo per fare una riparazione perfetta. Ma durante l'avventura, durante le fasi più importanti di un'avventura, ci si mette una pezza ragazzi. E la pezza nel nostro linguaggio significa nastro americano. Exotac produce negli Stati Uniti delle soluzioni geniali, finora l'abbiamo vista su Backpack con gli acciarini. Quello che vi presento oggi è invece un kit di riparazione molto particolare. Io lo adoro. Quello che vi arriva con il Ripspool è un bussolotto di alluminio a prima vista. Lo possiamo aprire facilmente in questo modo ed è immediato capire un po' di cosa si tratta. Qui abbiamo ben 127 cm di nastro americano. Il nastro telato lo conosciamo benissimo, lo usiamo sempre. È bene portarselo dietro ed è bene portarsene un po', un po'. Proprio perché magari non è facile avere una riparazione completa dell'equipaggiamento o magari durante un cammino lungo dobbiamo più volte riparare lo stesso punto perché magari è sporco, magari attacca male, che ve lo dico a fare. L'altra parte di questo Ripspool, di questo bussolotto di alluminio, si direbbe il tappo, ha invece in dotazione un ago, direi da calzolaio, è un ago con la punta sezione triangolare. Impossibile mostrarvelo adesso in telecamera ma fidatevi è una lancia, è un ago serio, un ago che vi permette di riparare la bisogna anche le calzature. Ecco siccome vi servirà del filo, eccolo qui avvolto proprio nel tappo del bussolotto, un filo ben 18 metri di filo ultra resistente. Lo si passa qui, si fa un po' di cucito e per spingere l'ago attraverso i materiali tosti, tostissimi che ci piace portare, zaini, scarpe, tende, tarp, cuciture, fascette, quello che vi pare, beh si mette in questo modo e diventa un ditale. Io posso fare tutta la forza che devo per spingere l'ago attraverso il tessuto, attraverso il materiale. Ovvio che tutte le parti consumabili di questo kit sono poi sostituibili, vale a dire che non devo buttare il Ripspool quando mi finisce il nastro americano, mi basterà con un po' di pazienza mettermi in questo modo e anzi magari lo metto arancione perché è tutto arancione e mi rimetto a posto il mio nastro americano. La stessa cosa vale ovviamente anche per il filo, il filo lo potete sostituire quando è finito, si rimette a posto e ho di nuovo il Ripspool pronto per una nuova avventura. Quando vado ad aprirlo ed è tutto un po' sigillato da un o-ring come già abituati Exotac, lo vedete qui in fondo questo elastichino nero che è di gomma, bene quando lo vado ad aprire ho anche spazio per inserire qualche piccolo amo o delle spille da balia, quello che vi piace portare, perché sì questo cavo, questo filo in alcuni contesti può essere anche utilizzato per pescare. Ovviamente non vi basterà avere un amo, degli ami e il filo per pescare ma dovete anche un po' saperlo fare, quindi ecco se pensate di dover ricorrere alla pesca anche in extrema razio beh allora vi conviene imparare a pescare prima di tutto. Il lineard qui, il paracord che vedete, beh Exotac ormai ci ha viziati non è paracord ma firecord, cioè all'interno c'è un'esca d'emergenza per il fuoco. Quindi con questo semplice bussolotto io ho un kit completo per riparare quello che mi serve. Aggiungo di solito delle fascette da elettricista perché sono più veloci, più pratiche per bloccare magari un pezzo di equipaggiamento e io sto a posto così. Tutto il bussolotto è ovviamente realizzato in alluminio aeronautico anodizzato, arancione, odigreen, gunmetal e black. Carino pure questo black super tattico. Exotac ripspool su backpacco.it ovviamente. Ah c'era un'altra cosina che volevo farvi vedere, un accorgimento di Exotac che io adoro quando le aziende fanno le cose così bene. Sulla parte esterna del tappo del ripspool, che tra l'altro è bellissimo, è godronato quindi si apre che è una meraviglia, c'è un micro forellino per passare il cavo e questo ha due funzioni importanti. La prima è evidente, questo è il mio, ne ho usato un po' e quindi poi l'ho bloccato in questo modo per non perderlo in giro e perché non mi piace mettere del nastro adesivo che poi mi si scioglie la colla diventa tutto appiccicoso. La seconda ragione, molto molto importante, è che benché l'ago quando io sto operando come di tale con questo è effettivamente ben posizionato, ben fissato qui dentro, con un o-ring piccolissimo che non si vede, comunque con un blocco, potrebbe capitare che io vado a perdermelo, in qualche modo mi cade l'ago. Questo in una situazione di emergenza quando mi sto sistemando le scarpe, quando sto sistemando il tarp per i sei giorni che mi mancano del mio cammino beh diciamo che è spiacevole come minimo e allora oltre a portarsi magari qualche ago in più quello che faccio io è legare ovviamente un'estremità del filo all'ago nell'asola e l'altra estremità la leggo qui nel buchino, nel forellino che c'è lungo la corona del tappo. In questo modo se mi dovesse cadere l'ago ce l'ho sempre bloccato e quindi sono più contento diciamo così. Ve l'avevo un po' anticipata la messenger bag di Pentagon. Questa tracolla, vedete è una tracolla, si capisce da sé, è davvero particolare, utile e delle dimensioni giuste per molti di noi a cui piace portare un EDC compatto ma completo. Vi faccio fare un giro all'esterno, vedete che la tracolla non è removibile, questa è cucita quindi prendetela se vi serve come tracolla, non è una pouch, a meno che ovviamente non le tagliate via. Bene, sul retro c'è una tasca e la scritta MILES. MILES è l'acronimo di Pentagon per la loro serie di prodotti dedicata al military law enforcement and security. Quindi gente d'azione che ha bisogno di alcuni strumenti pronti. Ve lo anticipo qui non c'è la zona per la fondina, per la pistola, ma quello che vedete qui in una tasca posteriore che rimane sempre aperta e accessibile è ovviamente il mio SPK Defender. Lo trovate su backpack.it, tenetelo sempre a portata di mano, non ha molto senso avere uno spray per difesa, uno spray al peperoncino o un qualsiasi strumento di difesa sepolto sotto il portafogli, il cellulare, quello che vi capita. Cerchiamo di avere le cose che ci possono servire urgentemente davvero a portata di mano. Bene, davanti c'è un pannello molle in nylon rinforzato. Ci ho sistemato un carabiner qui, un moschettoncino, e sul pannello molle potete agganciarci delle custodie, delle tasche, ormai lo sapete bene, anche una torcetta per il cappello, questa comodissima, la sistemate, è un po' una torcia frontale, si sistema così se vi serve al volo una torcetta. Qui abbiamo una tasca sul coperchio, una tasca chiusa con la zip della YKK, ovviamente ragazzi quando si parla di zip si va sul migliore produttore al mondo. Andiamo a vedere che ci ho sistemato, salviettine per le zanzare, credo che tra qualche giorno queste le possiamo davvero mettere via, speriamo. Un foxcore sempre comodo per fare qualsiasi cosa, non manca mai una buona avventura di portarsi una lama, serve sempre. E la tasca arriva proprio fino in fondo, quindi vi rendete conto da soli di quante cose ci potete sistemare. La chiusura è regolabile, vedete che io posso stringere un po' di più questa cinghia e mi rimane più compatto il carico, non si muove niente e va bene così, è apprezzabile questa caratteristica. La clip, la fibietta clip è in DuraFlex, quindi quelle che non si rompono. E di buono c'è che anche il coperchio, la patta, questa parte qui che viene davanti è imbottita, quindi se devo proteggere elettronica, cellulare o il preziosissimo EDC che ci portiamo, beh, un'imbottitura fa comodo. Apro e svelo immediatamente un pannello admin eccezionale, davvero disegnato bene, perché vi permette di avere a portata di mano tutto quello che vi serve nella vita di tutti i giorni senza dover per forza aprire, senza dover cercare eccetera. Qui posso sistemare ben sei biglietti da visita, ma beh sei, io ne ho messo uno per ogni alloggiamento, ce ne vanno due, tre, quattro, quelli che volete, la taschina retinata che mi permette, qui adesso c'ho la mia bellissima tessera dell'associazione italiana Prepper, però vedete come se io ho bisogno di nascondere qualcosa, ovviamente non metto dietro dove mi pare, ma se ho anche bisogno di mostrare un identificativo, una tessera di riconoscimento, la tengo qui. Da questa parte alla mia sinistra troviamo invece la zona per le penne. È una zona organizzatissima, vedete che abbiamo un doppio elastico per ogni penna e anche un taschino dove lasciare la punta. Se a voi piace portare quelle penne un po' più tattiche che magari finiscono un po' a punta, questa è di Maxpedition, pesante, tosta, una penna tattica, una penna utile anche per difesa o per rompere eventualmente dei vetri, beh allora vi farà piacere assicurarla dentro il taschino così non danneggia il resto della tasca e soprattutto non danneggia le manine mentre prendete altre cose. Qui ho sistemato anche una torcia tattica di 511 che funziona anche come torcia da difesa e cubotan, utilissima questa, doppio batteria e ci sta alla grande. Come vedete sono sempre strumenti bivalenti, un po' tattici, un po' comunque utili perché la torcetta vi serve per cercare le chiavi che avete perso. Ma se non volete perdere le chiavi potete semplicemente agganciarle qui all'accetto che finisce con un moschettoncino in Duraflex. Io ho agganciato questa torcetta qui sempre di Olight, mi piace siccome non uso tenere le chiavi legate all'interno delle borse a meno che non sono quelle per il trekking, quelle per i viaggi. Di solito nella vita di tutti i giorni non tengo le chiavi legate e allora una torcetta piccola prende sempre lo spazio di questi laccetti perché è proprio quella che so che rimane lì e non la tocco in teoria ma l'ho già staccata chi sta. Ok parte figa preparatevi perché c'è una parte davvero figa. Vi voglio avvertire perché i più deboli di click saranno già pronti ad acquistare questa bellissima borsa di Pentagon quando vedranno che tirando questa linguetta rossa io accedo ad una tasca a soffietto incredibilmente capiente. Ora quello che ci ho sistemato io è un piccolo kit, una parte di un IFAC, mi piaceva proprio l'idea linguetta rossa IFAC, bisognerebbe sempre portarlo con sé e quindi io me lo porto, ci ho sistemato una garza emostatica, una selox e uno SWAT T, uno SWAT tourniquet, un tourniquet elastico. Sono quelle versioni un po' più compatte che mi permettono di avere dietro qualcosa di utile anche se non si arriva ad avere un IFAC completo anche se non significa che posso intervenire su qualsiasi tipo di problema. È un po' un compromesso, viaggio più leggero e diminuiscono le mie possibilità di intervenire in modo efficace su qualcosa. Però allo stesso tempo in una borsa così piccola dove ho tutte le mie cose ho anche qualcosina che mi serve a questo scopo. La tasca a soffietto come vedete è tenuta su, tenuta ferma da due bellissime fasce elastiche, super comodo perché voi caricate tutto quanto, poi chiudete il bottone e nel momento dell'emergenza sapete già cosa dovete fare. Ci si potrebbe sistemare un'arma da fuoco? Beh sì, una pistola subcompatta qui dentro ci starebbe, anche la famosa scacciacani che ogni tanto mi porto durante le passeggiate. Ma torniamo a noi perché si vede meglio probabilmente in questo modo beh c'è la tasca principale. Tasca principale estremamente capiente e qui siamo ad un 2 litri e 8 di capacità, doppia zip YKK così ve la sistemate dove volete la aprite come vi piace e ragazzi qui dentro ci va davvero di tutto. Il telefonino di backpacko, ci ho sistemato un portafogli e siccome si parlava di IFAC, una forbice X-Shear, beh se portate qualcosa per l'emorragia, per gestire l'emorragia dovete accedere alla ferita altrimenti non saprete neanche cosa sta succedendo. E quindi per me il minimo, anzi vi faccio proprio il quadro completo, per me il minimo che porto, il minimo che posso portare sono queste cose qui. Ma come dice il mio amico e maestro Daniele Manno, piuttosto che niente, meglio piuttosto, questo è quello che posso portare con me. Qui troviamo anche un multi tool, il mio SOG che ogni tanto mi accompagna e la radio CB è una cosa che mi sta riprendendo ogni tanto la porto fuori, l'Alan 42 mitico, vedete l'antenna che si innesta velocemente in questo modo, quindi si smonta anche altrettanto velocemente e quando lo sto usando io adoro per questo motivo, è davvero questo il motivo per cui adoro tantissimo i pannelli molle perché non c'è ganci quasi mai nulla di tasche, taschine e compagnia, ma ci sta da dio la radio e quindi posso passeggiare e sentire se mi chiama qualcuno, se qualcuno risponde alle mie chiamate e a me questo piace tanto tanto. Anzi un giorno vi porto, ci facciamo un'uscita radio amatoriale che è divertentissimo. Un block note, stavolta A5 ragazzi, quindi un bel quaderno di quelli classici, pure spesso lo sistemi qui, devi andare ad una riunione, una conferenza, qualche posto dove devi prendere appunti, qui ci va tranquillamente. E ci va un tablet, ci va la tasca di dietro, la zona di dietro è imbottita per proteggere il tablet, io ci ho sistemato il libro perché le avventure non finiscono mai. Vi faccio vedere com'è dentro perché c'è questa divisione, se riesco a mostrarla, elasticizzata per appunto il tablet per tenerlo sulla parte posteriore, uno spazio infinito per sistemare tutto quello che volete e di nuovo anche il coperchio è imbottito, quindi quello che portate qui dentro è, beh, ragionevolmente protetto dagli urti. Bene, vi mostro anche le altre colorazioni disponibili della messenger bag di Pentagon, questa è la wolf gray, ovviamente c'è la versione black tutta nera, la versione o di green o olive, insomma quella verde, fate voi, è la versione coyote, la versione sand o coyote. Sono davvero belle, è incredibile quanta roba ci sta dentro, ricordatevi che tutto quello che ci mettete poi lo dovete anche portare. E torna DD Hammox al barpacco, torna con un nuovo prodotto particolarmente utile in questo periodo. Beh, come abbiamo visto con l'amico Giovanni Faina, istruttore di Oltre Slupeval and Rescue, durante il nostro DD Camp di questa estate, di questa primavera, non c'era veramente bisogno di grande protezione dal freddo, perché è una buona amaca alla sua intercapedine in cui noi gonfiamo o sistemiamo un materassino isolante e durante l'estate questo basta per proteggerci dal freddo. Abbiamo magari una copertina o un sacco a pelo e la schiena ben protetta da questo materassino. Ok, fino a quel punto, fino a che le uscite sono nelle tre stagioni, dico io, beh, estate, primavera e autunno, tutto ok. Quando però vogliamo dormire nell'amaca in quota magari e durante l'inverno, perché ci piace uscire anche con la neve e l'amaca, insomma bisogna stare un po' più attenti ad isolarci per bene all'interno del nostro bozzolo caldo. Come si ottiene questo? Il prodotto che vi presento oggi è di D.D. Ammox appunto e si chiama Under Blanket, una sottocoperta, una coperta che va sotto l'amaca. E quello che dovete fare è aprirla, è una coperta, e legarla con apposito sistema sotto l'amaca, cioè rimane proprio esternamente alla vostra amaca. Questo evita che il calore del vostro corpo venga disperso dalla parte bassa dell'amaca. Sopra avrete già un sacco a pelo, ma il sacco a pelo lo sapete quando io sistemo sull'amaca o a terra un sacco a pelo, la parte di sotto viene schiacciata per bene dal nostro peso e quindi non c'è più un cuscino d'aria che ci aiuta a trattenere il calore del nostro corpo, ma invece si predisporrebbe una zona proprio per prendere freddo ed è la parte critica di ogni campo. Mentre la parte che avvolge il nostro corpo ai lati e la parte superiore di solito mantengono una bella elasticità nell'imbottitura, intrappolano tanta aria e questa ci isola dall'esterno e evita che noi perdiamo troppo calore. Ora, un setup di questo tipo con l'amaca rischia di non farvi svegliare più, è comodissimo, ci si dorme da dio, proprio perché si crea una zona di comfort, di temperatura di comfort eccezionale. Non è come dormire in tenda dove se tiri fuori un braccio prendi freddo e muori. Qui hai l'amaca e la coperta che un po' ti avvolge, un po' ti prende come una culla. Quindi da provare assolutamente. Disponibile da oggi o al massimo da domani su backpack.it in tre colorazioni. Verde olive green di DD Ammox, poi c'è la coyote brown e poi la multicam, anche questa eccezionale. Ricordate ovviamente di fare qualche prova a casa per sistemarla per bene sotto la vostra amaca, a seconda del modello. O se avete una DD Ammox, non siete sicuri, volete qualche consiglio, beh allora contattatemi, sapete come fare e vi aiuto io, ne parliamo, vediamo come sistemarla sotto al vostro specifico modello di DD Ammox. Ma è comunque una under blanket, una copertina utilizzabile sotto diversi tipi di amaca. Under blanket di DD Ammox, benvenuta su backpack.it. E adesso da una coperta all'altra, beh ragazzi comincia a fare freddo, ci stiamo tutti preparando per la neve, ci serve uno Swogman Roll di Elicon. Lo Swogman è, o cos'è lo Swogman? Beh è un poncho innanzitutto, ok? È un poncho, quindi una mantellina che vi mettete sopra, quel cappuccio vi ripara dal freddo, dall'umidità, adesso vediamo tutte le caratteristiche, ma è anche un sacco a pelo, un sacco a pelo leggero. Io l'ho usato spesso come rinforzino, anche quelle sere d'estate dove non ti aspetti il freddo, beh è un sacco a pelo comodissimo da avere. Questo può essere utilizzato anche, fissato sotto l'amaca in qualche modo, come under blanket appunto. Potete usarlo anche come una semplice coperta. Le configurazioni sono tantissime e non vi dico neanche perché si vede che potete usarlo come cuscino. È disponibile su Backpack.it in tutte le 16 colorazioni, beh si lo fanno di 16 colorazioni, ma voglio entrare nel vivo del prodotto. Arriva così, arriva nel suo sacchetto di nylon ripstop e se avete voglia già vedete qui qualche esempio d'uso riportato e stampato. Questo è il modo di stoccarlo, è anche il sistema in cui lo tengo a casa. Perché? Perché in realtà quando lo porto in avventura lo ripiego tutto all'interno della sua tasca, lo rificco tutto dentro, ce lo ricaccio dentro, è fatto apposta, diventa più compatto ed è più facile da portare nello zaino. Però ogni volta che noi abbiamo l'occasione di comprimere tantissimo un'imbottitura, beh direi qui sia sintetica che naturale, perché in generale un'imbottitura se noi la comprimiamo tantissimo e la lasciamo compressa, questa tenderà a perdere l'elasticità che le serve per tornare ad intrappolare l'aria. E non so se vi è mai capitato di prendere una spugna che magari è rimasta sotto qualcosa per tanto tanto tempo, qualcosa di forte, qualcosa di pesante e quando la prendete non fa più la spugna, non fa più la spugna, non ce la fa più. Perdere quell'elasticità in ogni imbottitura significa perderne il potere isolante. So che si va un po' verso il tecnico ma quest'anno iniziamo a fare le cose sul serio, quindi andremo spesso sul tecnico a scoprire come funzionano i prodotti che comprate. Va bene, vediamo com'è fatto. Ah il mio come fantasia, come colorazione è una desert night camo. Mi piaceva da morire questo, l'ho preso, lo adoro. Vedete già l'attenzione di un sacchetto in nylon con il fondo traspirante. Questo è un fondo traspirante per permettere di asciugarlo e così lo tirate via. Dicevo questo di solito resta a casa, questo è il sistema di stoccaggio a lungo termine o lo portate con voi per altri usi, per la biancheria sporca come come vi pare. Eccolo qui ragazzi. Poi vi raccogliete le due cinghiette elastiche, una di qua e l'altra di là e ve la bloccate sul davanti e come vedete potete lavorare e fare quello che vi serve e avete sempre a disposizione una calda copertina sempre addosso. Non è solo una calda copertina ma avete una tasca molto capiente sul davanti e... ah ecco dove erano. Wow non li trovavo più e se avete un gancetto vi trovate un laccetto in cui io appendo sistematicamente i guanti proprio per evitare di perderli. Altrimenti li lasciate qui dentro e poi non li trovate più. Via i guanti? Ok. Questa è la classica configurazione poncho. Posso mettere uno zaino su, posso sistemarmi il carico e ho uno strato imbottito che mi protegge dal freddo o meglio evita che il mio corpo disperda nell'ambiente il suo calore ma evito anche il vento perché il vento non fa altro che portare via il nostro calore più velocemente dell'aria ferma e se riusciamo a proteggerci dal vento beh quella è una cosa molto importante. Aggiungo pure che ci proteggiamo dall'acqua perché questo è un nylon resistente all'acqua. Ora lo tolgo via e ricominciamo a parlarne però vi dico che ci si sta benissimo la sera intorno al fuoco se siete usciti con me qualche volta mi avete visto portarlo perché appena vedo il fuoco io tiro fuori questo dallo zaino tiro un po' giù questo che è il cordino elastico che regola l'apertura. Si sta benissimo qui dentro ma vediamo perché. Dicevamo che la tasca centrale è anche eventualmente una custodia vedete come se io ricomincio a cacciarlo tutto dentro ora non me lo fate fare tutto va bene lo faccio tutto perché siamo tre amici e ho di nuovo la stampa questo è fantastico dei diversi utilizzi. È chiaro che posso perché la zip funziona in tutti e due lati con un po' di pazienza adesso mettermi qui e e questo è il modo in cui lo porto di solito nello zaino è un po' più compatto del sacchetto dove lui è più rilassato però manco a dirlo fa anche da cuscino ed è comodissimo anche in questo caso per quelle serie dove effettivamente non vi serve ma lo avete portato ve lo trovate in macchina vi allungate un attimo e ce l'avete come cuscino quel gancetto che vedevamo è possibile utilizzarlo per appendere il sacchetto ritiriamolo fuori rendiamo giustizia a questo strumento eccezionale per vederne altre caratteristiche per sistemarlo come sacco a pelo mi basta raccogliere qui dove sono le zip e iniziare a chiudere vedete che fa il giro ora magari è un po' più complicato da mostrare in video ma vi assicuro che non ho fatto altro che tirare l'unica zip lunga e di qua si entra questo è il sacco ed è ovviamente tutto regolabile con i laccetti elastici per chiuderselo sulle spalle e qui vanno a finire i piedini se la tempesta vi coglie proprio di quelle serie o se sapete già che dovete affrontare un periodo in cui beh l'acqua e le piogge sono davvero torrenziali allora vi potrebbe servire da applicare sopra allo swagman roll un poncio impermeabile completamente impermeabile compatibile con lo swagman roll perché si blocca qui presto arrivano pure su backpack e quello è proprio per situazioni estreme perché nel momento in cui noi andiamo a chiudere tutto il vapore che noi stiamo producendo durante l'attività fisica immaginate che succede che studiamo e tutto si ricondensa addosso a noi addosso ai nostri vestiti e finisce che ci bagniamo da dentro per trasformarlo come coperta mi vado a portare nella zona cappuccio adesso io ce l'ho come se lo avessi addosso in pratica e notate che il cappuccio sul retro ha un velcro beh questo velcro dietro la testa può essere utile certamente durante le camminate per sistemarci una di questi una light bar di 511 rimane qui si vede benissimo se adesso ve la faccio rivedere chiudete gli occhi ecco dovreste vederla qui in studio c'è una grande luce è impossibile magari io la vedo benissimo ma quando non vi serve perché dovete sistemarlo a coperta quindi vi serve un unico telo omogeneo beh allora andate qui questa era la zona con il tascone e il laccetto un poco sopra trovate un piccolo taschino utile anche quello durante le passeggiate ma pensato per occultare in questo modo il cappuccio e richiudersi grazie alla clip in questo modo avete avete una coperta bene adesso datemi ancora un altro minuto di attenzione perché voglio spiegarvi quanto è fatto bene questo prodotto a livello tecnico l'imbottitura vi faccio vedere una cosa quando compriamo un indumento o una coperta con l'imbottitura sciolta sia la piuma che eventualmente dei fiocchi di materiale sintetico noi troviamo cucite delle camere degli scompartimenti ok queste camere servono per tenere al posto l'imbottitura vuol dire che mentre io cammino con il mio gilettino qui imbottito ogni piano che vedete di questa costruzione blocca l'imbottitura sciolta altrimenti dopo pochi metri io mi ritroverei con tutta l'imbottitura che scende dalle spalle e arriva ad accumularsi qui facendomi sembrare anche più grasso immagino ma perdendo chiaramente il potere di isolarmi dall'esterno questo è fondamentale ecco perché vedete queste trapuntature qui ecco perché vedete le cuciture su questo tipo di indumenti qual è però l'altra faccia della medaglia di questo tipo di costruzioni beh l'altra faccia della medaglia è ovviamente che nel punto in cui si incontrano le due pareti quella esterna in nylon in poliestere quello che vi pare ma parete esterna lo strato esterno e lo strato interno nel momento in cui si incontrano qui in zona cucitura beh quello spazio lì ha un isolamento parecchio parecchio peggiore del resto del cuscinetto e aggiungo pure che questo tipo di cuciture non sono assolutamente a prova di acqua quindi quando dovesse arrivare una bella acquazzone io inizierei a vedere proprio in questa zona accumularsi l'umidità e poi penetrare all'interno e ogni tipo di isolante che sfrutta l'aria che ha queste fibre morbide fluffose una volta che è bagnato tutti i pedetti si appiccicano tra di loro e smette di proteggermi smette di isolarmi anzi arriva l'umidità addosso a me arriva l'acqua fredda e va assolutamente peggio perché lo swagman roll poncho questo advanced si chiamava una volta quello che trovate su backpacco.it è diverso dall'altro di elicon che è il basic beh proprio perché tra le tante cose invece di utilizzare un'imbottitura sciolta e quindi queste fibre a fiocchi che devono essere poi bloccate in posizione con delle cuciture trapuntate proprio per proprio per evitare questo utilizza il clima shield apex il clima shield apex non è un'imbottitura a fiocchi ma è un'imbottitura a filo continuo è un foglio è un tessuto voi la sentite ovunque ed è in posizione rimarrà sempre in posizione non avete la non avete come succede in alcuni sacchi a pelo che vi si perde l'imbottitura la dovete ridistribuire no lo swagman così lo comprate e così rimane sempre isolante come il primo giorno all'esterno nylon come vi dicevo resistente all'acqua all'interno ancora nylon traspirante e infatti più attenti di voi noteranno che la parte interna dello swagman ha delle cuciture strane ha delle cuciture in giro queste cuciture servono proprio per bloccare lo strato del clima shield ma non le ritrovate all'esterno quindi sulla parte esterna avete una superficie omogenea e non avrete quei punti di dispersione del calore che poi tornano davvero scomodi seppure si dovesse mettere a piovere insomma ragazzi a mio avviso il poncio da prendere è questo swagman roll di helicon davvero un ottimo prodotto lo adoro lo sto usando spessissimo devo solo prendermene qualche altro colore magari arancione un'altra cosa bella di un poncio ve la dico mentre lo sistemo è che vi lascia aperte le braccia per bene quindi non è un sistema eccessivamente occlusivo della traspirazione è buono perché se avete visto anche voi la forma che ha ti protegge dalle precipitazioni ma siccome spesso quando indosso un poncio io mi sto anche un po muovendo ho la possibilità di lasciare evaporare il mio corpo un pochino poi un giorno ci fermiamo cerchiamo di capire come i vestiti che indossiamo dalla pelle in poi dialoghi tra di loro e riescano a collaborare per farci stare bene ma è un discorso lungo che non possiamo fare al barpacco come vedrete nel suo sacchetto entra senza particolare stress e infatti potete conservarlo anche così non credo e non lo farò io per me di lasciarlo in un armadio ancora più espanso bene se tutto questo parlare di imbottiture ed escursioni sulla neve vi ha fatto venire freddo freddo alle mani vediamo come combattere questa cosa abbastanza fastidiosa grazie al nostro integratore di sicurezza daniele manno e le sue pillole di med pacco e voi come vi riscaldate le estremità in caso di grande freddo ovviamente tutti quanti sanno che metterle sotto le ascelle sarebbe la cosa più pratica però non sempre funziona molto molto bene specialmente quando anche il nostro corpo non è particolarmente caldo la cosa migliore è sfruttare la forza centrifuga è proprio di centrifugare vorticosamente il braccio sentiamo subito fluire il sangue verso la parte più estrema alla stessa maniera potremmo fare anche per le gambe magari reggendoci a qualcosa per evitare di andare lunghi facendo così possiamo tranquillamente far fluire il sangue verso i piedi voi fate così mi raccomando noi intanto che voi girate vorticosamente gli arti andiamo a farci un bombardino be ready stay safe bene vi annuncio anche che la prossima settimana tornerà finalmente il blade in italy con il suo terzo episodio si va avanti con il coltellone di backpacko beh lo dobbiamo presentare lo dobbiamo vedere io non vi posso dire quanto è bello quello che ha fatto dario io non riesco a dirvelo a parole ve lo devo mostrare ma lo vedremo la prossima settimana intanto vediamo un po com'è andata ciao sono paolo di backpacko e oggi è blade in italy e la colpa ovviamente è l'orso dell'unico coltelli che ha deciso di andare in vacanza in africa sto specchio non ha mai visto una faccia più bella e poi arriva in ritardo a volte e dice ma sai aspetta aspetta potremmo farlo più ormai il treno è partito eccolo è scarci pur veramente è veramente un gran coltello mi raccomando puntuali perché abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto per definire alcuni dettagli che verranno spiegati durante la puntata bene siccome non cresciamo mai e siccome ci servono i dolcetti per avviarci nelle nostre avventure ecco che nella prossima settimana dal 2 al 6 di gennaio fino ad esaurimento scorte con ogni ordine vi arriva un sacchettino di M&M's questo è il mio snack preferito per i trekking è comodo perché è porzionabile lo mangi piano piano mentre vai è buono cioccolato e raghi di confettino esterno non si scioglie l'unico difetto è che se siete in tanti tutti ne vorranno uno non ve ne rimarranno abbastanza però è comodo perché sta nella taschina laterale di tutti gli zaini sta ovunque ne prendete uno ogni tanto e beh mi pareva una cosa carina da mandarvi per la calza della befana una calza da trekking spero qualcosa che ci porti fuori a smaltire tutte queste calorie dal 2 al 6 gennaio su backpack.it con ogni ordine sacchettino in regalo ora vi ringrazio per essere stati con me vi invito ad iscrivervi al canale e schiacciare la campanella per non perdervi neanche una delle prossime puntate il barpacco di oggi finisce qui io vi auguro buon anno un anno fantastico un anno da ricordare pieno di avventure un anno che segnerà la storia della vostra vita ma intanto grazie per quello che abbiamo appena trascorso insieme e lo ricorderemo così buon anno ragazzi grazie 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 i Grazie per la visione!